no marvin no stavolta abbiamo chiuso per sempre ma come non lo hai ancora visto scusa sono mesi che è lì su amazon mesi che te ne parlo e che fingi di averlo visto io apprezzo la tua onestà tardiva quando tu arrivi lì su amazon vai sempre a vedere il film americano così sei più sicuro sicuro di che di vedere una scemenza di vedere questi che si rincorrono con l'automobile l'auto va in fiamme il 40 per cento di ogni film americano è fatto da stuntman gli stand che si danno i pugni si buttano questo cinema questo è cinema marvin vergognati guarda i film con buone idee come l'amore allegro e non starmi a rompere ma se poi mi rovino la serata la serata te la rovini di sicuro col film americano così scemi sti palestrati che stanno i pugni si buttano dai punti dagli elicotteri mamma ma che me frega a me di vedere queste cose dico che me frega a me